Aprilia Capo Nord, un mito per la casa di Noale declinato in una versione per la prima volta molto molto sportiva che va dritta allo scontro con la Ducati Multistrada e infatti c'è tanta tecnologia, tanto design, tanta elettronica nel design ritroviamo gli stilemi della bellissima RSV4 campione del mondo quest'anno con Max Biagi per quanto riguarda l'elettronica oltre a quella che è stata travasata dalla dorso duro e cioè controllo di trazione ABS e mappe motore abbiamo l'aggiunta delle sospensioni semiattive che fanno parte di un pacchetto aggiuntivo della moto che prevede appunto queste sospensioni e anche le borse laterali per rendere la nuova Capo Nord una vera Globetrotter arriverà nella primavera del 2013 a un prezzo ancora da definire così come è da definire ancora con esattezza la potenza che dovrebbe aggirarsi però intorno ai 128 cavalli